Mi chiamo Elenia Porti e rappresento il marchio Vernissage fondato nel 2007 insieme al collega designer Matteo Mena. Questo progetto è completamente dedicato ai gioielli realizzati principalmente a mano e con materiali preziosi come oro, argento, broniture e diversi effetti delle broniture insieme a smalti e pietre preziose. Abbiamo cercato di costruire un marchio completamente basato sull'artigianalità e pezzi unici realizzati completamente a mano. L'azienda che produce è un marchio molto famoso nella gioielleria dal 1969 fondato dai miei genitori. Cerchiamo di mantenere lo stesso gusto del gioiello vero e proprio ma portato questa volta con l'argento e materiali più commerciali rispetto all'oro. Abbiamo cercato di creare ogni stagione delle collezioni ispirandoci sempre alla natura. L'ultima collezione è One Tuva con My Shoe che è stata ispirata ai giochi d'infanzia dei nostri genitori, quindi il rettino per le farfalle piuttosto che la fionda realizzata in argento brunito con brillanti o il cestino per raccogliere le rane. Sempre comunque presente la natura, le farfalle, i guffi, gli insetti, anche tutta la parte disidratata che solitamente si cerca di nascondere piuttosto che mettere in evidenza. Grazie. 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 Grazie.